Benvenuti, cari follower. Innanzitutto speriamo che questo video raggiunga più di 300 mi piace, in modo da suggerire il sistema YouTube e riversarlo su più persone possibili. Grazie. Se è stato rilasciato un aggiornamento molto violento solo istanti fa dal modello numerico americano, che indica una situazione molto forte e per certi versi sorprendente, gradi la temperatura scenderà ai minimi livelli nella notte di domenica e la neve sarà presente con forza sotto forma di temporali molto forti al nord e al centro, con uno spessore piuttosto consistente e a quote molto basse, è molto difficile per l'Italia, a partire da domenica, e quindi prepararsi alla forte inversione del tempo, a partire dal 26 febbraio, e fare attenzione a bollettini speciali e di allerta, se necessario, durante i prossimi video, e questo non è un diversivo, e sono un avviso e un avvertimento per evitare condizioni meteorologiche improvvise e violente.